Ti capita mai di essere scontento delle tue fotografie? Non ti preoccupare, succede a tutti. Nel corso del video di oggi andremo a esaminare le fotografie, inviatemi da uno degli iscritti, se vi interessa sapere come inviarmele è sufficiente mandarmi un messaggio in privato su Instagram con un link che non scade, quindi un Google Drive piuttosto che un Amazon Photos e potrete avere la possibilità di partecipare a questo divertentissimo format in cui vado a fare una sorta di commento alle vostre fotografie come se fossi un giudice di X-Factor e vado a dirvi secondo me se qualcosa poteva essere fatto meglio. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia per lavoro da tanti anni per cui commento le vostre foto dal punto di vista lavorativo più che artistico, ma vado comunque a cercare di darvi qualche consiglio per cercare di capire se qualcosa poteva essere fatto meglio. Per non perdervi altre appassionanti puntate di questo format, oppure recensioni di strumentazione o tutorial divertenti o quant'altro, io invito tutti quanti a iscriversi subito così non vi perdete i prossimi aggiornamenti. Un piccolo aggiornamento ve lo do anche oggi, non so se notate qualcosa di diverso in luci o colori, ma sto registrando il video di oggi con una fotocamera diversa dal solito, infatti sto utilizzando Canon EOS R10, una fotocamera che mi è stata mandata direttamente dalla casa affinché io potessi provarla. E lo sto facendo, la sto provando e vi chiedo anche a voi a casa che cosa ne pensate. Sto utilizzando il 18-150 mm, un'ottica che pure mi è stata mandata, quindi sto testando questa nuova configurazione, devo dire che così a prima vista Canon EOS R10 mi sembra molto più bella di R50 e R100. Questo proprio a prima vista per quanto riguarda i colori che vedo a monitor, mi sembra molto più fedele, mi sembra molto più bella rispetto per esempio a R50 e R100 che sono macchine che non mi sono dispiaciute, però la resa cromatica era un'altra cosa. Andremo a vedere poi alla fine del video e in altri contenuti se ho ragione oppure no, ma adesso saltiamo all'interno del mio computer e andiamo a vedere questo portfolio. Cominciamo con questa immagine. Allora, a livello compositivo, eh cavolo ragazzi, le righe sono dritte, le linee verticali sono dritte, c'è questo bolide che non riesco a capire che cos'è, ma sembra una via di mezzo tra un'auto futuristica e un'auto d'epoca. Non capisco qual è lo stemma, potrebbe essere una Porsche, chi lo sa. Qualcuno mi dica nei commenti se sapete che modello è. Io non sono un vero appassionato di auto, nel senso che mi piacciono ma non le distingo. L'immagine non è niente male, vedo dei dettagli nel cielo, quindi è esposta bene, fanali accesi nonostante sia giorno. È un'immagine che non mi cattura particolarmente, nel senso che vorrei vederla meglio questa vettura, vorrei capire meglio che cos'è, però è caratteristica, non mi sembra neanche fatta in Italia. Non riesco a capire dove è stata fatta, però sono abbastanza sicuro che non sia Italia, con quella gruli dietro, potrebbe essere Inghilterra. È un'immagine non particolarmente forte, però funziona, cioè non è fatta male. Secondo me va bene, sposta bene, composta bene, si poteva forse fare di meglio, ma secondo me va un gran bene così. Andiamo avanti e mi sembra di capire che in questo caso il nostro coraggioso fotografo è un appassionato di automotive, perché due foto, due auto, anche qui non riesco a capire bene di che cosa si tratta, però questo sembra un bestione di tutt'altra natura. Quest'immagine ci sta, secondo me, anche se ci sono un paio di cose che non mi fanno impazzire. Quella linea verticale storta tutta sulla destra e mi rendo conto che probabilmente è storto questo affare che vediamo qui, magari è una scaffalatura che sembra deformata, quindi ci può anche stare, però io l'avrei raddrizzata comunque in posto, perché vederla storta così mi dà un gran fastidio. E poi c'è quella zona di perdita di dettaglio in alto a sinistra dove batte la luce del sole. Mi rendo conto che non si poteva fare probabilmente meglio di così, però questa è la tipica foto che, e andiamo avanti nel portfolio per capirlo, tra l'altro lasciatemi iscritto nei commenti se avete una preferita, se c'è una di queste foto che vi piace più delle altre, fatemelo sapere nei commenti così poi ne parliamo. Questa è la tipica foto che io non so se avrei tenuto. Adesso vediamole tutte, vediamo anche le altre, però questa già subito è la tipica foto che io in un portfolio che sottopongo avrei tolto. Andiamo avanti e vediamo se ce ne sono delle altre o se cambio idea. Andiamo avanti e questa non mi dispiace. Purtroppo io ho cliccato su info ma non ho metadati di sorta, quindi l'unica cosa che riesco a vedere è che le immagini si chiamano A7R, quindi posso forse immaginare che siano fatte con una Sony A7. Può essere, io non avendo fotocamere Sony non lo so come si chiamano i file. Mi piacerebbe sapere con cosa è stata scattata, però in fin dei conti non cambia la sostanza perché io devo giudicare la foto, non la strumentazione. Mi sembra esposta bene anche se siamo un po' in carenza di gamma dinamica perché abbiamo delle ombre che sono un po' scure e delle alte luci che sono un po' chiare. In particolare faccio riferimento alle nuvole e alla facciata con il sole. La composizione non è malvagia, forse io avrei evitato di prendere quella roba che c'è in basso. Quella roba che c'è in basso vedo un pezzo di albero e un pezzo di un'altra parte di struttura. Io le avrei fatte o sparire oppure le avrei prese di più in modo che si capisca bene che cosa sono. Per il resto è dritta, quindi in realtà diciamo che non è fatta male perché è bella dritta e quindi va bene, l'esposizione non è sbagliata. Manca gamma dinamica, con uno scatto HDR si risolveva, però mi rendo conto che scattando con un'esposizione corretta era difficile recuperare le alte luci e le ombre. Fondamentalmente va bene, però mi racconta poco. È una situazione così che non capisco cos'è, non riesco a rendermi conto di cosa sta succedendo. Può essere uno scatto architettonico che descrive la città, però senza sapere qual è la città mi arriva un po' poco. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro c'è. Questa è Londra, questa è chiaramente Londra e allora se è Londra anche quella di prima, io mi sa che ci sono stato in quella piazzetta, sì ci sono stato, siamo stati lì una sera a mangiare in un localino, ho dei bei ricordi di Londra. Questo è chiaramente uno dei ponti che affacciano sul fiume e allora questa foto non è particolarmente dritta, lo vediamo dai pilastri che non sono dritti e qui mi rendo conto che forse non si poteva fare altrimenti. Però io ci avrei provato, avrei provato a tenerla dritta comunque. Il soggetto principale che comunque sono i palazzi che abbiamo incorniciato all'interno, sono comunque, cioè sembrano dritti in foto perché comunque la prospettiva non ci fa percepire che sono storti, quindi diciamo che va bene così. In questo caso particolare c'è una cosa però, io qua avrei esposto forse un po' diversamente, nel senso che avrei cercato di mantenere più dettaglio nel cielo a costo di perderne un po' nel ponte perché il ponte è scuro, è in ombra, ma io avrei sacrificato un po' di luce sul ponte pur di avere il cielo un po' più presente là dietro. Io questa differenza l'avrei messa in campo. Poi qui se eravamo su tre piede si poteva fare un bel bracketing o anche una posa lunga con un filtro ND e veniva l'effetto seta sull'acqua e lì venivano fuori delle belle cose. Diciamo che l'idea di usare il ponte per incorniciare l'architettura va bene, ci sta. Andiamo avanti e vediamo dove va a parare questo portfolio. Qui abbiamo, io credo che sia ancora Londra, lì dietro si vede un qualcosa che potrebbe essere una fermata ma non riesco assolutamente a capire che cos'era. Questa è stata fatta proprio in corrispondenza di questo corrimano, però la macchina non è appoggiata sul corrimano. Mi domando com'è stata fatta. Cioè la macchina era appoggiata sul corrimano e spostata oppure era un trepiede oppure è stata fatta a mano. Io dico che è stata fatta a mano perché le persone sono cristallizzate nel loro movimento, quindi se fosse stata appoggiata forse ci sarebbe stato un po' di effetto mosso. Io qui l'avrei visto un gran bene un effetto mosso ragazzi. Se questa noi mettevamo la macchina sul corrimano, chiudevamo tutto il diaframme, mettevamo una posa lunga di due secondi o insomma una posa più lunga del normale. Con un filtro ND era la morte sua perché lì facevamo magari anche quattro secondi di posa. Invece senza filtro probabilmente il massimo che riuscivamo a fare in pieno giorno era un secondo, due secondi, non di più. Però sarebbe stato sufficiente per dare alle persone quell'effetto mosso che secondo me gli dava un po' più di carattere a quest'immagine. Perché così è proprio una foto della strada che però non mi racconta chissà cosa perché è da lontano, è tutto così lontano, non riesco a vedere bene niente, non mi porta tanto dentro. Avrei voluto vedere qualcosa di un pochino più tecnico. Andiamo avanti e vediamo se troviamo qualcosa che mi dà più soddisfazione. E qui, signori, qui la soddisfazione ce l'ho perché Londra è sempre bella, questo spot diciamo io lo conosco. Interessante l'idea di c'è sempre qualcosa che tenta di incorniciare qualcos'altro. Quindi anche qui abbiamo questa scultura con questa, mi pare di ricordare, ci sono delle sculture, lì c'è una fontana a forma di cavalluccio marino e altre cose, Londra è piena di roba. E quindi qui abbiamo quest'impennaggio che in qualche maniera incornicia l'inizio del London Bridge. Non è niente male come idea, ci sono un paio di problemi però, secondo me, del tipo in basso a sinistra, quel cancello è brutto, quel cancello io avrei cercato di escluderlo dal fotogramma e modi per escluderlo potevano essere scattare in verticale, ci stava. Facevamo il London Bridge con l'impennaggio e scattavamo in verticale, ci stava benissimo. Oppure potevamo spostarci lievemente da una parte o dall'altra. Anche qui, se avessimo fatto una posa lunga, quelle persone che stavano sullo sfondo magari venivano mosse o venivano completamente invisibili. Secondo me era meglio. Mi rendo conto che siamo in giro. Anch'io quando sono stato a Londra non le ho fatte queste cose perché ero di fretta, avevo le robe in mano, quindi non l'ho fatto neanch'io. Vi dico solo cosa si sarebbe potuto fare in un mondo ideale. E poi una cosa su cui qua avremmo sì potuto fare qualcosa, però il cielo è un po' sbiadito. Qua secondo me un bracketing con un HDR ci stava un gran bene. Perché io vi dico sempre questa cosa del bracketing? Perché ragazzi? Se noi facciamo le foto alla golden hour, la foto viene bene, così, senza bisogno di fare niente. Perché io vi dico di fare bracketing? Perché quando scattiamo col sole a picco, quando scattiamo col sole a picco, il bracketing ci aiuta a tirare fuori delle informazioni dalla nostra immagine che se no vanno perse. In questo caso il cielo non è un brutto cielo, però è un po' assente, c'è poco colore. Se avessimo fatto un bracketing riuscivamo a tirare fuori più informazioni da questo cielo e diventava più colorata, più potente, più vibrante. Qui bastava appoggiarla da qualche parte anche lì sul muretto e la cavavamo fuori questa secondo me. Andiamo avanti, probabilmente sempre Londra, qui saremo in un parco. Allora qui devo fare un commento un po' da purista. A me è stato insegnato, quando studiavo fotografia un milione e mezzo di anni fa, che quando noi andiamo a scegliere dove mettere a fuoco, l'idea di mettere a fuoco qualcosa che sta sullo sfondo e di tenere qualcosa di sfocato, di quinta, può funzionare ma bisogna farlo con molta prudenza. Perché il più delle volte il nostro occhio va a identificare prima le cose che stanno più vicine. Ovviamente se io sto camminando identifico prima un ostacolo che ho qui molto vicino, piuttosto che un qualcosa che sta a 200 metri. Il mio occhio mi casca prima su qualcosa che sta vicino. E in questo caso il mio occhio va a sbattere contro questo pomo sfocato qui davanti e il mio pensiero è subito, ma non si poteva evitare questo coso ed evitare anche quella rete che sta nell'acqua e prendere soltanto natura. E mi rendo conto che magari la risposta è, volevamo dare un'idea del parco in cui eravamo, così, l'ambiente per far capire. Se no sembravano dei salici e basta, non si capiva più neanche dove eravamo. Però secondo me avere questa struttura in primo piano sfocata a me personalmente disturba. Il mio occhio ci sbatte contro e poi va verso l'ambiente che invece è a fuoco. Se non ci fosse stata tutta questa roba davanti avrei visto soltanto un paesaggio naturale, però non avrei avuto un ostacolo davanti che mi disturba. A me disturba. Ditemi nei commenti che cosa ne pensate. Ovviamente è solo la mia opinione, non c'è giusto o sbagliato. Andiamo avanti. Io posso supporre che sia ancora Londra visto il tipo di vettura che vedo là dietro. Non ho idea di dove ci troviamo, però qui siamo chiaramente in presenza di un lungo fiume, suppongo, con delle file di scacchiere. Pensate che paese civile, ve lo immaginate qua da noi mettere delle scacchiere in giro? Cioè il giorno dopo che le hai messe ti hanno rubato tutti i pezzi e portato via anche i tavoli magari. Però lì invece c'è la gente che va a giocare a scacchi. Carina, carina, uno scatto quasi street che non mi dispiace. L'unica pecca, volendo, è che c'è una grossa differenza tra le aree chiare e le aree scure. E di nuovo con un bracketing si sarebbe potuto rimediare. Però in alternativa questa io la vedrei in un gran bene in bianco e nero. Sarebbe il caso di provare. Andiamo avanti. Qui abbiamo, ecco, questa non è brutta ragazzi, però anche questa è una foto che io forse avrei tolto. Perché mi domando, ma questa se io la tolgo da questo portfolio, qualcuno di noi lo nota, la mancanza di questa la sentiamo. Può essere interessante perché sì c'è una bella macchia di colore, questo camion è molto caratteristico, però intanto è una prospettiva, si fa, attenzione, si fa. Fotografare nell'automotive, fotografare le auto dal basso è una cosa che si fa. Però parere mio c'è troppa terra sotto. Io avrei cercato di prenderlo da un lato isometrico, perché così siamo proprio sulla ruota, però non riesco a capire quanto è lungo e non vedo il muso per intero. Quindi è una posizione un po' strana. Io avrei preferito vederlo isometrico così capivo che tipo di veicolo è, lo vedevo meglio. Capisco anche che l'idea era quella di avere il riflesso dentro nel vetro, cioè ci arrivo, non sono stupido. Lo capisco che l'idea era proprio quella di avere questo accostamento cromatico e in effetti ora che lo guardo funziona anche. Però io forse avrei stretto, avrei stretto sul cruscotto perché abbiamo tantissima terra sotto, abbiamo lo sfondo dietro con il cielo tutto sfocato. Io in questo caso credo proprio che avrei stretto sul cruscotto per avere soltanto il frontale del veicolo con la scritta riflessa dentro nel vetro. Oddio ma è riflessa? No non è riflessa perché la leggo giusta, quindi è una scritta appoggiata sul vetro. Ok mi rendo conto che potrebbe anche essere una cosa caratteristica, però comunque io credo che l'avrei fotografato più da vicino. Andiamo avanti e insomma per chi conosce Londra saprete anche che ci sono gli scoiattoli. Questa è carina, abbiamo qui uno scoiattolino. Allora una cosa sola, io avrei composto portando lo scoiattolo un pochino più a destra perché così abbiamo la testa dello scoiattolo che si trova proprio nel mezzo dell'inquadratura. Invece io avrei innanzitutto magari zoomato un po' di più ma forse non era possibile e poi avrei preso meno tronco, un po' meno tronco e un po' più di sfondo sfocato dietro allo scoiattolo. Per il resto lui è molto carino. Andiamo avanti e qui io non so se sia un ritratto, un autoritratto con autoscatto o un ritratto di un'altra persona, di un amico, non lo so. Il ritratto ci sta, lo sfondo sfocato è molto bello, quelle palle belle tonde dietro sono molto appaganti. Mi domando con cosa è stata scattata perché non ho i dati e non riesco a vedere con cosa è stata scattata. Aspettate un momento però. DSC. Questa è una Nikon. DSC secondo me è una Nikon. Questa sono abbastanza convinto che sia una Nikon. Il ritratto ci sta ragazzi, niente da dire. Non mi piace la luce sul volto però è lì che ci vuoi fare. Lì o ti porti dietro un flash. Questa luce con queste ombre così scavate non mi piace per niente però è la luce che c'era lì. Quindi cosa ci vuoi fare? Va bene così. Si poteva magari cambiare angolazione e prenderlo in un punto dove la luce cascasse un po' più morbida sul volto però magari la persona ritratta si piace anche così con questa angolazione, con questa espressione quindi va bene così. Andiamo avanti e qui abbiamo un'interpretazione molto sentita di un musicista di strada che sta suonando un bel sassofono. Mi rendo conto che nella foga della performance possono succedere tante cose. C'è una cosa che mi piace in questa fotografia. Mi piace abbastanza come è composta anche se forse io gli avrei tenuto la testa, gli avrei dato meno aria sulla testa e forse avrei cercato di includere anche la seconda mano. Però comunque non è composta male. Quello che non mi fa impazzire è che la profondità di campo è così sottile e ci sta, può essere una scelta. Però io qui vedo lo strumento a fuoco e lui lo vedo sfocato. E questa è una cosa che di nuovo come prima in teoria io quando guardo una foto di questo tipo dov'è che mi casca l'occhio? In questo caso mi casca sulla persona. Io avrei preferito vedere a fuoco lui piuttosto che lo strumento. Se è una scelta ci sta però a me casca proprio l'occhio sul fatto che lo strumento lo vedo molto presente molto a fuoco e lui invece lo vedo evanescente. Mi domando con che ottica è stata fatta perché questa deve essere un'ottica con un'apertura abbastanza importante visto la prepotenza di questo sfocato. Andiamo avanti e qui abbiamo il primo bianco e nero di questa collezione. Questa mi piace abbastanza. Attenzione io qua sono abbastanza schillato da rendermene conto da solo che è storta perché se no non ci stava. Perché se noi l'avessimo fatta dritta tagliavamo la parte superiore di questo impennaggio. Mi piace molto che sia in bianco e nero e che ci sia questa gestione di chiaro e scuro. Va benissimo. L'unica cosa, io sono fanatico di sta roba, a me non interessa come l'abbiamo scattata, com'era l'ambiente eccetera. Io una foto come questa la raddrizzerei. Quelle linee verticali che diventano cadenti io le raddrizzerei in post produzione perché ok che dovevamo scattarla così se no non ci stava. Però a casa in poste io le raddrizzerei, le tirerei a misura quelle righe. Secondo me diventa più potente. Se vogliamo tenere le diagonali, le linee verticali storte. A quel punto ci abbassiamo e andiamo sotto e quindi la facciamo dal basso verso l'alto ma lo facciamo apposta allora. Perché scattata così non sembra fatta apposta con quelle linee in quel modo. Quindi io le raddrizzerei. Per il resto bella. Andiamo avanti. Bella anche questa. Mi piace anche questa. Mi piace anche qui il bianco e nero. Bella gestione. Anche qui un po' la stessa cosa. Ci sono queste queste linee verticali che io le avrei raddrizzate. In post produzione si tirano, si raddrizzano. Nessun problema e nessuno lo saprà mai. E si può ancora fare. Quindi io farei questo piccolo intervento. Qui c'è anche da dire una cosa. Ovviamente siamo in interni. Mi rendo conto che la gestione è difficile qua ragazzi. È maledettamente difficile. Abbiamo un fuori molto luminoso e un dentro magari scarsamente illuminato. Abbiamo una differenza di gamma che si vede. Abbiamo una perdita di dettaglio sia nella luce che nelle ombre. Ci stava bene lo stesso e avrei cercato di recuperarle il più possibile. Tenete conto che in un contesto del genere secondo me un monopiede per fare un bracketing ve lo fanno anche usare. O se non ce l'abbiamo con un'ottica stabilizzata facciamo un bracketing a mano piuttosto. Alziamo un pelino gli ISO se proprio. E con una foto come questa che secondo me è fatta con un'ottica tutto sommato non particolarmente lunga sarà un 35. Secondo me è un 35 questo. Non ho riferimenti però non credo che non mi sembra un 17 e non mi sembra neanche un 85. Secondo me è a metà. Secondo me ce la facevamo a fare un bracketing anche a mano. Ragazzi questa era l'ultima foto di questo portfolio. A questo punto io vi chiedo fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate. Come vi sembrava questo portfolio? Qual era la vostra immagine preferita? Personalmente credo che le mie preferite siano state proprio queste ultime due. Questi due bianchi e neri perché io non sono tanto fan del bianco e nero però quando è fatto con criterio quando c'è una foto che viene messa in bianco e nero perché effettivamente rende bene così ci faccio caso perché io vedo che spesso e volentieri uno dice va bene la foto fa schifo la metto in bianco e nero così posso dire che è una roba autoriale. Eh no il cavolo invece se fa schifo fa schifo mettendola in bianco e nero magari fa un po' meno schifo perché sembra diversa però non è così che funziona. Invece qui ci sono di chiaroscuro i gestiti bene perché comunque attenzione io mi lamento dico avete pare il bracketing la gamma dinamica di qui di là però mi rendo conto che magari non era possibile fare meglio di così e se non era possibile fare meglio di così vuol dire che l'avete fatta giusta l'avete fatta bene. Su queste due sono abbastanza convinto secondo me sono sono buone l'unica cosa io le raddrizzerei però per il resto funzionano. A questo punto ragazzi fatemi sapere come sempre qui sotto nei commenti che cosa ne pensate fatemi sapere qual è la vostra preferita se ce n'è una preferita però poi che l'autore ci dia qualche delucidazione perché secondo me stava usando almeno due fotocamere diverse secondo me stava usando una sony e una nikon vogliamo qualche informazione vogliamo sapere che ottiche sono state usate e perché queste due macchine che sono tutto sommato diverse siamo curiosi ci vediamo giù nei commenti così ne parliamo vi ricordo se volete partecipare di riguardarvi l'inizio del video perché ho spiegato come si fa iscrivetevi al canale così non vi perdete le risposte eventuali a commenti sotto questo o altri video signori io spero che questo format stia aiutando tutti quanti a migliorare a prendere consapevolezza della grammatica di quello che facciamo quando realizziamo delle fotografie per me è un format che rimane divertente da portare fatemi sapere se continuo a piacervi e a interessarvi io vi ringrazio come sempre di aver passato un po del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao